C'era una volta... L'unico! È matematicamente impossibile riscrivere la stessa opera. Ne scrivo una nuova. Migliore, perché nasce dalla sofferenza della mancanza della prima. Infatti lui usciva... Ogni 27 giorni. Dalle ore? 17.25. Alle ore? 18.26. Per andare a trovare il suo unico amico, Giulio. Che era collezionista di trenini di marzapane. No, non la mangiare la locomotiva, te! Dai, no! Se vuoi puoi succiare un po' il casello, va! Sudditi! Al fin siamo giunti al giorno tanto atteso. Sta tanto atteso te in tintoria. Ho tanto tanto atteso. Sta tanto atteso in tintoria con le tette ritinte dalla tintoria. Tito! T'ha stinto le tette, Tito! Ti ha atteso tanto per tinge le tette! Tutti i tetti tanto di tette ritinte sui tetto, Tito! Tonto! Si può vivere benissimo. Anche senza amore. Ma non senza poesia! Senza metafore! Senza... Senza figure elettoriche! Come sono le alternative di secondo grado all'amore romantico? Che coinvolgono gli a? Gli animali. Gli animali sei tu! Convolgono gli altri. Gli altri. Come si amano gli altri. E lui la vide! Ma la vide! La vide dal suo spioncino! E da quel giorno stava tutto il giorno attaccato allo spioncino aspettando che lei passasse di fronte alla sua porta e... l'amava? L'amava! Stop! Stop! Il suo spioncino Putin tutti Vjuveni! Grazie a tutti.